Finalmente siamo approdati ad Aristofane dopo diversi anni di lavoro sul comico perché lavoriamo insieme dal 95 quindi al ventottesimo anno di vita della compagnia abbiamo deciso di entrare più decisamente nel materiale di Aristofane e Pluto la commedia che presentiamo a Kilowatt è l'ultima commedia è una commedia quindi matura adulta ma è anche strana in qualche maniera bambina perché il meccanismo che c'è alla base è un meccanismo come dire naif il protagonista decide direi di restituire la vista a il dio della ricchezza Pluto il quattrino sostanzialmente si potrebbe dire perché è stufo del fatto che il quattrino non va dalle persone per bene ma va dai delinquenti malfattori eccetera cioè non premia i giusti sulla base di questa di questa moralità possiamo definirla così perché è proprio una moralità abbiamo abbiamo proceduto con la mia compagnia i sacchi di sabbia al completo quindi noi quattro per la prima volta un po filologicamente cioè non abbiamo 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 naturalmente operato una riscrittura come come succede per tutti i testi comici soprattutto quegli antichi però rispettando la scansione di Aristofane inventandoci solo dei cori che serviranno agli spettatori per come dire posizionarsi avere meno 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 scalini da fare siamo contenti di un insomma di chiudere un percorso nostro sul mondo antico che si è sviluppato attraverso sul crinale delle parodie abbiamo presentato Eschilo abbiamo presentato Euripide qui invece entriamo proprio nel mondo comico in maniera decisiva insomma dai siamo contenti grazie a tutti